Nome? Alice. Paolo. Anni? 19. 18. Provenienza? Ala. Rovereto. Perché hai scelto Buonarroti? Perché prepara molto bene per il mondo del lavoro. Perché ha un'ottima reputazione ed ha i migliori sbocchi sul lavoro. Perché Biotecnologie? Perché sono sempre stata molto interessata nella scienza della vita. Perché Chimica? Perché sono sempre stato interessato alla componentistica dei materiali. In questa scuola hai trovato? Professori molto preparati, un buon ambiente e laboratori molto attrezzati. Un ambiente di studio sereno e buoni laboratori, buone attrezzature moderne. Quale professione ti piacerebbe intraprendere? Come professione non so ancora, ma sono puntata sull'università. Analista chimico in generale, ma non sono ancora deciso. A chi deve scegliere la scuola superiore? Fatevi consigliare, ma non fatevi influenzare. Non spaventatevi dalle distanze. Saluto. Ciao a tutti, in bocca al lupo per la vostra scelta. In bocca al lupo e vi aspetterei qua se non fossi in quinta.